MISSI SGLOSO Il modello protagonista di Giro di Vide, innanzitutto per te che sei un'attrice che comunque ha partecipato a tanti film, tante fiction, che cos'è portare a teatro una ghost story? Tu che comunque hai fatto anche ad esempio cinema di genere. Sì, ti riferisci al film che ho fatto ultimo anche con Sergio Stivaletti di cui sono amica, sì sempre Sergio Stivaletti, quindi il genere l'ho fatto con lui, col maestro Stivaletti ed è divertente, mi diverte sempre. Allora questa è una storia, sì di fantasmi, ma è la trasposizione teatrale del testo di Henry James, Giro di Vide, fatta da Marinelli, Giancarlo Marinelli che è anche il regista dello spettacolo. Allora io interpreto due personaggi, quindi è per me una doppia prova ed è molto divertente trasformarmi prima in un tempo passato nella prima istitutrice della casa di Bly che si chiama Jane Jessel e poi divento Mary Seedons che è la seconda istitutrice, quindi in un tempo diverso. E' uno spettacolo pieno di colpi di scena, visionario in tutti i sensi, nel senso che poi siamo accompagnati dalle meravigliose visioni e proiezioni di Francesco Lopergolo e in scena con me c'è che vedo apparire che non è un fantasma ma è il reale Fabio Sartor che tutti conosciamo, insomma attore meraviglioso che mi accompagna insieme poi a Cristina Chinaglia e Giulia Pellicciari e Michele Castelli, insomma ecco questa è tutta la compagnia al completo. Vi siete forse dimenticata delle condizioni tassative che abbiamo insieme concordato al momento della vostra assunzione? Insieme sì. Quelle condizioni sono forse cambiate, Mrs. Seedons? No, no non sono cambiate. Milo, non sono cambiate il Milo! Fabio, invece tu sei attore navigato di teatro, hai lavorato con Ronconi, con Streller, però questo è un genere un po' diverso, cioè il gotico a teatro non si vede spesso, la ghost story, è un genere forse un po' insolito rispetto alla media degli spettacoli. Com'è per un attore interpretare questo tipo di storie rispetto magari alla classica commedia piuttosto che al teatro più impegnato? Guarda, intanto ti ringrazio perché sei uno delle poche persone che arriva qua e sa esattamente chi è di fronte, cioè se hai meno preso la briga di leggere un po' di curriculum prima, che è una bella cosa perché è sempre bello parlare con qualcuno che un po' ti conosce. Ma pensa, scusa se ti interrompo, se lo vogliamo dire tutta, io mi ti ricordo quando ero ancora ragazzo, eh lo so, lo so, lo so, mi è provocato, quando ero ancora ragazzo mi ti ricordo in Colletti Bianchi, pensa, che era la serie sulla Fininvest, quindi ti conosco, almeno una trentina d'anni, vai! È meravigliosa che, vabbè, tutta un'altra storia. Parliamo di questo spettacolo. Sai, come, io credo, come si recita, non lo so come si possa recitare il gotico, cioè nel senso io credo che poi in tutte le storie, soprattutto anche nelle storie del paranormale, ci si possa trovare all'improvviso, noi qui all'improvviso, all'improvviso c'è un'apparizione. Come reagiamo a questa apparizione? E questo è il punto di tutta la, di tutto questo commedia, dramma, questa, ad esempio, per me il primo fantasma che appare è Mrs. Seedons, che invece appare lì come una persona normale che cerca un lavoro, ma per me all'improvviso appare qualcosa che è come un déjà vu, no? Come reagiamo a un déjà vu? Noi abbiamo, no, una situazione, ma io questa cosa qua l'ho già vissuta. E nel testo, questa situazione qua, Giancarlo Marinelli, la metti proprio in scena chiaramente. C'è una scena, non la possiamo svelare troppo, ma insomma, le scene si specchia, una si specchia dentro l'altra, ma i personaggi sono diversi, cambiano. Cioè cambiano rispetto a quello che hanno vissuto. Ecco, io credo che sia questo poi mettere in scena una scena gotica. Cioè immergersi in un'acqua scura e vedere come si possa galleggiare in quell'acqua con la paura che il fondo potrebbe essere lì a 50 centimetri oppure potrebbe essere la fossa delle Marianne sotto. Ecco questo. Comunque ci tengo a dire che è un testo innovativo, è anche una messa in scena molto innovativa, che si avvicina, io ho sentito anche gli spettatori che hanno visto lo spettacolo, noi siamo andati in scena ieri per la prima volta, è quasi più a volte, cioè è il cinema-teatro. Cioè sembra un film a volte, è vero. Quindi vi siete ispirati anche voi al, forse alla più celebre delle trasposizioni, che è quella di Suspense, di Innocence, dove appunto i vostri ruoli erano interpretati da Deborah Kera e Michael Redgrave. Avete visto il film, vi siete ispirati anche a quello oppure avete preferito a tenervi solo al testo? Io parlo per me, io di solito non mi ispiro mai perché poi voglio dire nessun paragone, bene mai fare, no. Per quanto mi riguarda no, c'è stato detto anche The Others, La Kidman, no, assolutamente. Questo è altro, cosa altra, cioè ha una sua vita precisa e quindi noi facciamo vivere questo spettacolo in un modo tutto nostro, penso, assolutamente, guidati dalle sapienti mani di Giancarlo Marinelli e poi insomma ci divertiamo, devo dire che ci stiamo già divertendo, pur essendo solo all'inizio. Ma sai poi, rispetto a quello che dicevi prima, io credo che l'attore sia un po' come l'allegria dei naufraghi, no? Noi ci attacchiamo, le parole sono i nostri salvagenti, quindi quello che trovi nel testo è il tuo materiale, è il tuo pane, è il tuo cibo, non puoi pensare a qualcos'altro, non vale la pena di pensare, ah ha fatto così, allora io rimando, perché poi è ormai l'esperienza anche del pubblico, ormai frantumata, vengono da storie diverse, da generazioni diverse a teatro, da culture diverse. Tu resti attaccato a quelle parole, proprio alla battuta, no? In realtà cosa c'è del teatro? C'è un uomo e ci sono delle parole e da lì viene fuori il personaggio e tutto, credo che sia qui poi il piccolo gioco del teatro, il piccolo grande gioco del teatro. E poi c'è il patto col pubblico che viene fatto ogni sera, io credo in te, tu credi in me, cioè quello, poi quella è la magia del teatro. Che fondamentalmente poi è il rispetto per gli altri, quello che si impara a teatro, si impara il rispetto, il rispetto per chi sta in scena e tu come attore il rispetto del tuo pubblico. Per chi ti guarda. Che ti guarda e si crea proprio il grande evento della socialità, dove la comunità si riconosce, no? Non a caso i teatri all'italiana erano fatti proprio per guardarsi anche, il pubblico si guardava, si doveva riconoscere, non solo riconoscere quello che capitava in scena, ma con questa storia del teatro chiudiamo, grazie mille. Con cui tu insegna i miei nipoti come si addomesticano gli uomini e le donne, anzi, si sottomettono a colpi di frusta, stringendo il collo con le corde, impirando nei loro sessi punte e pugnate chi viene a teatro verrà anche a spaventarsi, perché alla fine è una storia di fantasmi, quindi c'è anche una componente ovviamente orrorifica, quindi chi viene a teatro sarà anche spaventato o solo inquietato? Diciamo un po' a tutte e due, si spaventerà insieme a noi anche, perché poi noi la viviamo veramente questa storia, quindi si spaventerà, si emozionerà, si innamorerà, vedrà dei fantasmi, delle apparizioni, bellissime immagini, insomma succedono tante cose in questa scena e in questo spettacolo. Va bene, diamo un appuntamento finale allora per venire a vedere lo spettacolo e ricordiamo anche le date successive. Allora, noi iniziamo quest'anno, adesso l'allestimento, abbiamo iniziato qui al Ghione, siamo fino al 9 dicembre. Fino al 9 dicembre qui al Ghione e poi dal 13 al 16 a Venezia al Teatro Goldoni. 17 siamo a Est e poi riprendiamo l'anno prossimo con una lunga tournée già in programma che però insomma poi vi sveleremo mano a mano. Mano a mano che viene. Grazie mille. Veniteci a vedere. Ciao. Ciao. Saremo come una famiglia nella sua nuova casa. Tra le montagne una casa immersa nel bosco. Un bosco immerso nella neve dove non puoi uscire, fare un passo, mettere il naso fuori perché altrimenti... un orso del romanzo e altri lunghi. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God.